Il maltempo si abbatte anche sullo sport cittadino. La società di pallacanestro Sporting Club Torre Greco si è vista costretta più volte nelle ultime settimane a sospendere e rinviare le proprie partite di campionato per i problemi legati all'attento struttura alla salle. L'impianto, inadeguato a trattenere all'esterno le forti piogge, permette all'acqua di penetrare all'interno e queste perdite rendono impraticabile il campo di gioco mettendo a rischio l'incolumità degli atleti. Ce ne parla ai nostri microfoni il presidente Sergio Imposimato. Purtroppo nelle ultime settimane a causa delle forti piogge abbiamo dovuto sospendere e poi interrompere delle partite già in corso, nell'esattezza tre partite in meno di dieci giorni, perché c'erano queste perdite d'acqua dalla copertura della tendo struttura e che purtroppo non impedivano lo svolgimento della partita rendendo il fondo del campo scivoloso. Quindi a questo punto siamo stati costretti dalla federazione a dover ripetere queste partite, ma purtroppo ci troviamo sempre a dover sperare che ci siano dei giorni di non pioggia, di bel tempo per non rincorrere nello stesso problema ancora. I rinvidi e le partite inoltre causano problemi non solo legati al regolare svolgimento delle attività del club, ma anche alle società ospiti che di volta in volta arrivano in città. Prima cosa ci perdiamo degli orari di allenamento perché dobbiamo ripeterla durante i giorni di settimana dedicati all'allenamento, che sono giorni che ci sono stati assegnati dal comune. Inoltre la squadra che viene, diciamo ospite, che viene da fuori, ha diritto, perché la federazione ce lo impone, al rimborso delle spese che ha sostenuto per venire a giocare da noi. Già partito il dialogo tra la società cestistica e l'amministrazione comunale. Con l'amministrazione fortunatamente abbiamo un buon dialogo, tanto è vero che abbiamo avuto proprio in questi giorni un incontro sia con la parte politica che quella amministrativa dell'amministrazione comunale. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni tampone fino al compimento della gara d'appalto per la quale già sono stati stanziati dei fondi per la sostituzione della copertura e del fondo del campo. Per adesso siamo stati noi a chiedere all'amministrazione di postecipare tutto alla fine dei campionati perché non abbiamo una struttura alternativa per poter svolgere le nostre partite di campionato. Il Presidente lancia infine un appello affinché si trovi una soluzione celere per il bene di tutto lo sport torrese. L'appello è quello di trovare adesso delle soluzioni che ci permettano in tutti i modi di poter portare avanti la nostra attività nel miglior modo possibile. Quindi ad esempio portare delle toppe alla copertura, cercare di trovare invece poi eventualmente dei teli da mettere sotto la volta che possano permettere lo scorrimento dell'acqua, delle infiltrazioni verso zone non propriamente del campo da gioco ma sulle zone laterali. In più abbiamo anche il problema delle tende laterali che stiamo cercando di far risolvere con l'amministrazione apponendo dei tiranti che così restituiscono di nuovo la pendenza giusta per le acque piovane.